Presente Le espose Merazzo Presente Saturno Iosetti Presente Saturno Giovanni Presente Buzzo Pierpaolo Presente Del Gavio Presente Impazzini E assente E assente E fuori Rai Presente Buongiorno Prima di iniziare Con gli ordini del giorno Vorrei Lasciare la parola Per rispondere All'interrogazione De mani Da gruppo Camerata di parte In oggetto Inferimento Queste lune Per la settore estiva 2018 Passa la parola Sì Giusto anche Per la velocità Sì Visto che Non si vede un bambino Non è presente Sì Possiamo anche L'inviare La prossima La prossima L'hanno fatta Anche scritta Se la propria La prossima La prossima Sì Allora Andiamo avanti Il giorno Si parla Della convenzione Della Dimenti Mediante Procedura Di Desilizio Di tesoria Per il Cinque Nel 2018 Si Diora Il signore Dimenti Da adottare Sì Io sarò Buonissimo In quanto Come Ascolto Buon giorno a tutti E A tutti Gli ascoltatori Che Sono Così vicini Grazie A Dicusati Nel mondo Prima di Parlare di questo Argomento Tengo sempre A precisare La presenza Dei responsabili Dei vari Procedimenti Che Proprio In virtù Di una Collaborazione E trasparenza Vogliamo Sempre Presenti Nei nostri Consigli Comunali In modo da Poter Dispondere E Appunto Di questo Parliamo Oggi Della Gara Per Affinamento Della nuova Tesoreria Perché E' attraverso Una sana Gestione E il Visanamento Dell'ente Che Passa Appunto La buona Pratica Amministrativa E dopo Aver Attentamente Valutato Costi E sprechi In Varie Direzioni Che Hanno portato L'ente Ad appesantirsi Notevolmente Nella Deportia Di cui Siamo Tutti Noti E noi Siamo partiti Appunto Da queste Analisi Ed è proprio In questi giorni Il risultato Ottenuto Appunto Con una delle Voci Passive Più pesanti Per quanto riguardava Il bilancio Dell'ente Ossia Lo straordinario Risultato Ottenuto Con la nuova Ricontrattizzazione Quindi Un notevole taglio Dei costi Da parte Della Soge Questo Poi è passato Attraverso Il risanamento Delle società Partecipate Che Fino a ieri Producevano Pertite Per l'ente E oggi Sono Completamente Rimesse In piedi Con L'auspicio Di Trave Utili Da investire In servizio E oggi Questo Lo facciamo Toccando Un altro Tasto Dovente Che era La tesoreria La tesoreria Comunale Che è Come Medio di me Dopo Il dottor Castaldi Ci potrà Spiegare Il cui Bando Era vecchio Di circa Dieci anni Del 2009 Quindi Si è andato avanti Una vita Facendo Prologhe Allontando I tempi Per Ricontrattizzare Il tutto Ma qualcosa Che non era stato fatto Questa amministrazione Appunto Immediatamente Ha messo mano Appena È finito l'anno Abbiamo messo mano Per il Lisanamento Anche di questa Diciamo così Ulteriore Voce passiva Se pensiamo Che la tesoreria Costa 70.000 euro L'anno È una cifra Vertiginosa Rispetto a quelle Che sono Le convenzioni Tito Noi qui Contiamo Di risparmiare Oltre 50.000 euro E quindi Ci abbiamo Ad approvare Appunto Questa Altro Punto Importante Per l'Ente Lascio la parola Dottore Dastau Se vuole Entrare Vittuali Buongiorno Innanzitutto Questa Delibera Riguarda L'affidamento Di un servizio Indispensabile Per l'Ente Che è il servizio Di tesoreria Comunale Non credo Ci siano Grosse Scelte Da fare Questo argomento Perché È previsto Dal testo Quindi Quindi è obbligatoria E il comune Visto che Il contratto è scaduto Il 3-2 dicembre Del 2009 Deve procedere Obbligatoriamente A fare Un bando di carri Se qualcuno Ha qualche domanda Da fare Sennò passerei Lettamente In votazione Passiamo Alla votazione Quindi Chi è d'accordo Ad approvare Questo provvedimento Maggioranza Maggioranza Il 3-2 dicembre Di questo provvedimento Allora Passiamo al secondo punto Regolamento Per la cogestione In uso del complesso Di ambienti Costituenti Centro Con funzionale Di benedica Per ora Quindi approvare Questo regolamento Sì A questo proposito Io Vorrei Chiamare L'architetto Coraggio Nel caso Ci siano Delle Pluralizzazioni Anche qui Da fare Passiamo Subito A un altro Passo Importante Facciamo oggi Un passo Determinante In avanti L'apertura Del palazzetto Come avevamo Promesso E Questa apertura Che è Attesa Da tutta La cittadinanza Ma che Ha Diciamo così In questi mesi Dovuto Subire Una procedura Un iter Che La vedeva Ancora Lontana Appunto Da questa Fatidica Inaugurazione Che tutti noi Auspichiamo Ormai In tempi Brevissimi Questi Otti mesi Sono serviti A tantissime cose In quanto L'iter procedurale Del palazzetto Non era Per nulla Completo Anche se Bisogna ammettere Che l'opera Era al 95% Finita dal punto Di vista Strutturale Ma C'erano tantissimi Altri problemi Che dovevano essere Risolti Come Il rilaccio Di tutte le utenze Gas Luce E appunto L'acqua Tutti i contratti Non erano stati Stipulati In quanto Vi erano Delle insolvenze Con tutti gli enti E quindi Questo impediva Appunto Di contrattizzare Le utenze Come L'antigendio Che non era ancora Stato attivato Con la CONSAC Quindi la procedura Era in itinere Ma sono stati Necessari Passaggi Determinanti Tra l'altro La ditta Che voglio ringraziare Qui oggi La ditta schiava Di Vallo della Lucania La quale Suppressioni Diciamo Da parte Dell'amministrazione Ci ha concesso Altri lavori Di migliorie Di arreguamenti Per la struttura Ci siamo Battuti Moltissimo Per questo Anche se erano Non dovute Diciamoci La verità La stessa ditta Ha ammesso Che erano Importanti E quindi Ci ha concesso Queste ulteriori Migliorie In ultimo C'era un'altra Problematica Molto importante In quanto L'opera Non era stata Ancora Nel tutto pagata Mancava Un detreto Di circa 600.000 euro Che abbiamo Potuto ottenere Dalla regione Cosa che abbiamo Ottenuto Circa Un mese E mezzo fa E oggi C'è stata Anche Nelle scorse Settimane La liquidazione Alla Appunto Alla ditta Schiavo Per consentire Appunto La consegna Le vecchiavi Ovviamente Erano C'erano Altri Passaggi Importanti Per Rendere Puibile Il Palazzetto Oggi Appunto Approviamo Questo regolamento Che non è Un regolamento Nato Dall'amministrazione O dai Tecnici Ma è un regolamento Pienamente Condiviso E di questo Andiamo Molto fieri Perché Nel corso Di questi Mesi Abbiamo organizzato Delle riunioni Con le associazioni Con tutte le parti Sociali Che sono i veri Attori Artifici Del Palazzetto Dello Sport Li abbiamo Incontrati Qui Nella Casa Canonica Qui Nella Casa Comunale Li abbiamo Incontrati In altri Luoghi Abbiamo Ascoltato I loro Suggerimenti Abbiamo Ascoltato Le loro Proposte E questo È un regolamento Quindi che nasce Non solo Dalla parte Tecnica E politica Ma anche Dal mondo Associativo E di questo Andiamo Pienamente D'accordo Perché Riteniamo Che la vita Del Palazzetto Dello Sport Necessiti Appunto Del contributo Determinante Del mondo Associativo Attraverso Questo Appunto Immaginiamo Che Il Palazzetto Dello Sport Possa prendere Sempre più vita E diventare Il vero Luogo Di aggredazione Ma anche Un veicolo Oltre che Sociale Anche Economico E che Via Indotto Appunto Alla Collettività Grazie a Degli eventi Che sicuramente Saranno Organizzati Quindi da parte Mia Innanzitutto Il ringraziamento Alle associazioni Che hanno Lavorato E nessuna Di loro Sarà esclusa Perché Faremo in modo Da poter Condividere Con ognuno Di loro Appunto Tutto Quello Che sarà Realizzato All'interno Del palazzetto Anche Voglio Ringraziare Il delegato Manfredo D'Alessandro L'assessore Alla cultura Teresa Esposito Vincenzina Perazzo Assessore Allo sport E tutti Gli altri Consiglieri Che hanno Lavorato Insieme All'architetto Coraggio All'ingegnere Di Rosario A Dottor Giovanni Castaldi Al segretario Comunale Appunto Per la stesura Di questo Regolamento Che Tutti quanti Possiamo leggere Verificarne La bontà E la Viena Condivisione Grazie Se ci sono Altre cose Se no L'architetto Coraggio Vuole aggiungere Qualcosa No Volevo solo Piedere Siccome Mi era stato Riferito Che c'erano Stati I risori Di infiltrazione D'acqua Piovana All'interno Della struttura Se Questo è Vero Se Eventualmente È stato Risolto Il problema Se ci sono Problemi Tipo strutturali In questo Momento Che possono Pregiudicare L'apertura Della struttura Insomma Io Posso Soltanto Dire Che per Sentito Dire Si sentono Tante cose In effetti Che cosa È successo È successo Che l'abbondanza Delle piogge Di questi giorni Ha fatto sì Che il terreno Che è Incluso All'interno Delle Aiuole È fuoriuscito Dalle Aiuole Quindi Abbiamo chiamato La ditta E abbiamo fatto Ripristinare Lo stato Dei luoghi Abbiamo chiesto Anche una piantumazione Che non era Prevista Per poter Migliorare Appunto La staticità Del terreno Inoltre Vi era Un canale Del soffitto Occluso Che aveva creato In una delle stanze Umidità Quindi Noi abbiamo fatto In modo Che questo canale Occluso Fosse Liberato E La ditta Proveduto A ritrattare Appunto Lo stato Dell'intonaco E della pitturazione E ha finito Completamente A posto Il tutto È chiaro Che una struttura Di quelle portate Ha bisogno Di una manutenzione Ringrazio il consigliere Del Gaudio Per avermi dato Spunto Proprio per questo C'è stata Un'attenta analisi Proprio perché Bisogna evitare Che la struttura Resti Incustodita Ed è per questo Che L'ente Ha provveduto A reggimentare A regolamentare Un Un Banno In modo Che si calcolino Attentamente Anche Le risorse Economiche Che servono Non solo Per poter fare Una manutenzione Ordinaria Ma per poter Accantonare Anche Delle somme Per prevedere Le manutenzioni Straordinarie Che nel corso Degli anni Sicuramente Dovranno Essere Previste Quindi Condivisione Pieda Sulla massima Attenzione Al palazzetto Dello sport E noi ci aspettiamo Il contributo Di tutti Anche Previsto Come tutti sanno Il servizio Di video Sorveglianza In ogni caso La ditta Si è resa Disponibile Anche Nel prossimo Futuro Nel caso Ci fosse bisogno Di interventi Derivanti Appunto Dalla Manutenzione Della struttura Dato la piena Disponibilità Noi abbiamo Noi abbiamo letto Il regolamento Insomma Non fa una piega Va bene Se non ci sono Penso di parlare Pure il nome Del collega Curso Se non ci sono Problemi strutturali Perché Se c'era Soltanto Una canale Di scolo A creare Problemi di infiltrazione A mettere all'esterno E questi problemi Sono stati rimossi Quindi Ripeto Se non vi sono Problemi Che possano mettere In dettaglio La salute La tutela Delle persone Che devono Suffrire di questa struttura Per noi Il voto È sicuramente Favorevole Con Con la richiesta Che venga fatto Un monitoraggio Continuo Della struttura Proprio perché Soggetta Alle intemperie Continue Se non c'è Malutenzione Non c'è Accortenza Insomma Negli anni Potrebbe degradare E non essere più utilizzabile Insomma Che sarebbe uno spreco Per la nostra comunità Mi approfitto Visto che Insomma C'è responsabile Del servizio Urbanistica A parte Le perplessità Soprattutto Il contributo Che Poc'anzi Ha citato Il collega Trigallo Su quelli Che possono Essere Aspetti Diciamo Che sono Tra l'altro Anche Naturali Per una struttura Di quelle Dimensioni Soprattutto Che Vengono Alla luce Dopo 12-13 anni Di Di Terra Ma A prescindere da questo Perché oggi Penso che l'oggetto È altro Non è Chiaramente Discutere Le modalità Con cui si è proceduto Giusto una domanda All'architetto Ma Avete Orientativamente Fatto Una stima Dei costi Annuali Di Gestione Di Questa struttura Allora Proprio alla luce Della previsione Dei costi Sia di gestione Che Come annunciato il signato Anche di manutenzione Abbiamo inteso Non saturare Il valore sociale Della struttura E quindi Prevedere La possibilità Anche ripercorrendo Ciò che abbiamo fatto Con il regolamento Per le manifestazioni Pubbliche Quindi la possibilità Di aprire La struttura A quelli che sono Quelli che sono Gli organismi Del terzo settore Operanti sul territorio E Abbiamo dato priorità Quindi A quello che è Il valore sociale Ma contestualmente Abbiamo anche Previsto L'apertura Di alcuni Ambienti Anche Al mondo Dell'imprenditoria Prevedendo Quindi Un canone Di locazione Che sarà Ovviamente Commisurato A quelli che sono Quelli che sono Le destinazioni Degli ambienti Questo per poter In linea Con quello Che il piano Della generazione Per l'organizzazione Degli immobili Comunali Per poter Prevedere Anche Come Diceva il signato Anche Un'entrata Per il comune In modo tale Da Non dover Avere la possibilità Di far fronte Agli eventuali Ulteriori Costi Ovviamente Chi prenderà In gestione In questi ambienti Dovrà affrontare Anche costi Relativi A quelli che sono I servizi Della struttura Stessa Come Avete potuto Leggere La regolamento Quindi Una vera e propria Quantificazione Che oggi Non va Di Una vera e propria Quantificazione Per il regolamento O no Per quelli che saranno I passaggi successivi L'abbiamo fatta Soltanto Precisare Alcuni aspetti Innanzitutto Diciamo Che c'è una Diversificazione Per la gestione In quanto I servizi Di ristorazione Bar Palestra E fisioterapia Sono dei servizi Che saranno Appunto Gestiti Avendo la possibilità Di partecipare Anche I imprenditori E quindi Sicuramente Essendo Delle attività A scopo di lucro Facendo un rapporto Euro-metro quadro Dovrebbero garantire La Diciamo così Quel modello di gestione Che chi ha immaginato Per coprire I costi Di gestione Ordinaria Dopodiché Si è immaginato Che la struttura Centrale Ossia Il campo centrale Che è quello Che dovrà Diciamo così Rendere Quotidiaramente Delle entrate All'ente Attraverso All'istituzionalizzazione Della perla Del cilento Quelle entrate Che serviranno Per garantire Le manutenzioni Poi straordinarie Tra l'altro La possibilità Anche un'altra Che ci si immagina Nel prossimo futuro Che attraverso Concerti Spettacoli Ed altre Attività Sociali Si possa puntare Anche Ad una Compartecipazione Quindi Misurarsi Per Così Esplorare Anche Il mondo Diciamo Di poter fare Degli incassi Attraverso Degli eventi E degli spettacoli Questo Anche cedendo A terzi La possibilità Di organizzare E questo Lo si fa Soprattutto Anche in virtù Di far sì Che Camerota Diventi di nuovo Pro Polo Attrattore Soprattutto Nel periodo Invernale Quindi Innescando Quel processo Di destagionalizzazione Tanto caro A tutti E credo Che Il palazzetto Dello sport Possa essere Questa opportunità Soprattutto Grazie A poter Organizzare Grossi eventi Ripeto Magari Condividendo Questo percorso Anche con privati Perché no E quindi Avvicinare Nuovi flussi Economici Non soltanto Per il palazzetto Ma soprattutto Per il comprensorio Perché sappiamo Benissimo Che quando Giovani Si riversano Per Assistere A spettacoli Eventi Spospivi Musicali E quant'altro Non c'è Soltanto L'indotto Diciamo Dell'evento Ma quello Che si crea Intorno Per i pernottamenti I pranzi Le cene E tutto ciò Che riguarda Il mondo Della notte Possiamo andare Alla votazione Avete Qualche Altra domanda Quindi Chi è Favorevole L'approvazione D'errori Di questo Regolamento Del centro Polifunzionario Di Benedica Marota Tutti Votiamo anche Per l'immediata Eseguibilità Benissimo Possiamo passare Il terzo punto Di approvazione Di regolamento Qualche opportunità Sì No In relazione Io Un attimo Facciamo È nostra Intenzione Come Amministrazione Anche perché È una novità In effetti Avere Il consiglio Comunale Di quattro donne Di seguire Questa commissione Per le varie opportunità Per rimuovere Tutti quegli ostacoli Che possono Determinare La discriminazione Diretta e indiretta Verso le donne E anche Favorire Un riequilibrio Di genere Tra gli uomini E le donne Questa commissione È un organo permanente È una funzione Consultiva Sia insieme Al consiglio comunale Sia in tutta L'aggiunta Promuove Varie ricerche E indagini Sulla evoluzione Della donna Si cerca Di attivare Tutti i territori Favorire E incrementare Il resto delle donne Sul mondo del lavoro E promuove Sviluppare Sviluppando Decidazioni Del mondo Della scuola E anche A livello Ancoculturale Sia nel campo Del sapere A livello Di storia Medicina Psicologia E quant'altro E anche Del saper fare Per esempio Realizzare Laboratori Di professioni Antiche Ma anche Di professioni Tecnologiche E ovviamente All'interno C'è un organo La commissione Viene prima nominata Dalla presidenza Del consiglio Composta 12 donne Dove ci sarà Un presidente Due vicepresidenti Nella segreteria La presidente Le 12 presidenti Sono nominate Dalla commissione Stessa Mentre la segreteria Viene nominata Dalla presidente La commissione La commissione Stringerà Comunque Una volta al mese La sede Sarà qui La sede Comunale Niente Vorrei Condividere Comunque Con gli assessori Perazzo Ed esposio Se vorrebbero Dire anche loro Mi dispiace Della consigliere Infantini Era giusto Condividere anche Con lei Se avete Qualche parola Da dire Mi Farete piacere Buongiorno Considerato Ovviamente La condizione Attuale Della Della Società Odienna Sappiamo Ancora Tutte Le difficoltà Che attualmente Insomma Si incontrano Correre obbligo Da parte Delle Amministrazioni Comunali Non specifico Come diceva Presidente Della Della nostra Che vede Tre donne In consiglio Comunale Di maggioranza Più una Dell'opposizione La quale Ovviamente È invitata A collaborare Quando e come Ritiene opportuno Il progetto È stato voluto Fortemente Da tutte Le donne Presenti Della Della maggioranza Anche quelle Che non si trovano Insomma Il consiglio Comunale A questo proposito Ringrazio Mimma I annunzi La quale Parte integrante Del progetto E Maria Teresa Reda E Sara Pellegrino Inoltre Voglio ringraziare Anche Gerardina Cella La quale È stata Una Di quelle Che ha Contribuito Una parte Integrante Di questo Progetto Lei si era Occupata Già in passato Di varie opportunità Sul territorio E siamo Onorati Che faccia Parte Di questo Progetto I percorsi Trattati Da Questa Commissione Saranno Molteplici Uno Tra tutti L'avvicinamento E l'inclusione Delle donne Alla vita Politica La sensibilizzazione Alla prevenzione Ma anche Solo Momenti Aggregativi Volti Allo scambio Degli Interpersonali Insomma E Cercheremo Di Istituire Anche Uno Sportello Al quale Presteranno Servizio Le varie Professionalità Presenti Nella Commissione Per dare Contributo A chiunque Ne volesse Ne volesse Usufruire E Inoltre Cercheremo Di integrare Dei percorsi Nelle scuole Volti All'educazione E al rispetto Tra i sessi E alla prevenzione Della violenza Di genere E di tutte le Forme Di discriminazione Grazie Ovviamente Questa proposta A noi ci vediamo Assolutamente Favorevoli Anche se Io non vorrei Sbagliare Ma mi pare Che già esistesse Qui al Comune Una sorta di Regolamento Però sono passato Un po' di anni Perché se non sbaglio Avevo una sorta Di telega Proprio L'ex assessore Fiore Di Lettiscosa Con l'amministrazione Troccoli Quindi è un qualcosa Nei vari ambienti Nei vari ambienti Quindi penso che la donna Abbia ormai Assunto Un ruolo Di pilastro Nella società civile Quindi penso che questo Vada nella direzione giusta E noi ci vediamo Comunque favorevole In merito Bene Allora Quindi non ci resta Che votare Chi è favorevole Tutti Passiamo all'ultimo punto Un indirizzo Per approvare Uno schema di convenzione Come già è stato fatto Tra il Comune di Centro E la Comunità Contata Alcustentro L'Ambra Di Mingardo Quindi per aderire A questa Questa convenzione Ed associarsi Al servizio Di fuggio Comprensionale Per cani Relazione L'assessore Grazie Come già Preannunciato Si chiede La convenzione Con la comunità Montana Alcustentro E Mingardo E il Comune di Camerota Per Per l'adesione Al servizio Che riguarda Il difuggio Comprensionale Per cani Prosegue quindi La volontà Di questa Amministrazione Al fine Di arginare Questo fenomeno Che come sappiamo È diventato Dilagante Sul territorio Tante sono state Le misure Prese Fino ad oggi Questa Riteniamo Essere dovuta E necessaria Al fine Di Arginare Il fenomeno Fermo Restando Che Sarà Fatta A breve In Associazione Con l'ASL Una campagna Per La sterilizzazione Nella microcippatura Niente Questo È un argomento Che già Ho incominciato Temo fa Quando si parlava Della microcippatura Quindi Involgere La direzione Giusta La mia domanda È Siccome In passato E parlo Del 2010 Circa Il Comunità Montana Dussendo L'Ambremigando Che già Aveva Questo Questo Rifugio Per cani Insomma Sollevò All'epoca Un problema Di congestionamento Della struttura Cioè Non riusciva Più A ricevere I cani Inviati Da vari Comuni Tant'è Vere Che noi Dovemmo Far riferimento A strutture Che andavano Molto più Lontane Quindi Le mie Domande Oggi Previo Anticipare Ovviamente La Il Parere favorevole Rispetto a questo Tipo di Proposta È Se ci stanno Il congestionamento Se riescono Comunque Ad ospitare I cani Se è stata Come già Parlamo All'epoca Visionata Da parte Della Administrazione La struttura Cioè Le condizioni In cui Tengono Gli animali Prima di procedere A questa Convenzione E se L'amministrazione Oltre a Trovare Come riferimento La struttura Della comunità Montana Si è approvvuto Insomma Quali sono le iniziative Rispetto alla Vigilanza Del territorio E il servizio Del calappiaggio Anche Dei cani I quali poi Successivamente Dopo un periodo Di quarantena Di controllo Dovuto Devono essere Portati Presi Fuggi Avendo seguito Personalmente Questa Diciamo così Fase Procedurale Per la Convenzione Direttamente Anche con il Presidente Della comunità Montana Che ringrazio Per la Collaborazione E piena Condivisione Rispondo Alle Domande Del consigliere Del Gaudio Dove In merito Abbiamo avuto Rassicurazioni In quanto Nel canile Pare Si sia Adottata Anche Una Procedura Che Porta Nella direzione Di uno Snellimento Più rapido Dei carichi Dei cani Che Purtroppo Vengono portati Come Ultimo Diciamo Ultima Soluzione Io mi fermerei Un attimo Prima Volendo proprio Fare Una Prechiera A tutti I nostri Concittadini Che Hanno Un cane Un amico Come Fedele Come un cane Nell'ultimo Periodo Veramente Nella situazione Sta degenerando E mi spiace Molto Proprio per questi Animali straordinari Che tanto Ci danno Ma che Con una facilità Irrisoria Vengono lasciati Al loro Destino Io credo Che i cani Non siano Una moda Ma siano Degli amici Inseparabili Che bisogna Trattare Con tutte Le cure Del caso Noi Non a caso Abbiamo Provveduto In questi Nove mesi A cippare Tantissimi Animali Devo purtroppo Dire Che Nel nostro Comune Ci sono Tantissimi Randaggi Di cui Il sindaco È responsabile E visto Che la responsabilità Ricade Sul sindaco Dico Già Da adesso Che saranno Presi Provvedimenti Decisi E duri Verso Chi abbandona Questi animali Provvederemo In poco tempo Ad attivare Questo servizio E La mia Speranza È che Non Avremo La possibilità Di accalappiare I cani In quanto Aumenti La coscienza Appunto Dei proprietari Di questi Animali Non possiamo Sopportare Che si vada Per strada Con il cane A guinzaglio E lo si lasci Defecare Dove vuole Non possiamo Pensare Che si lasci Il cane Abbandonato E per strada A buttare La spazzatura A svuotare I bidoni Della spazzatura In quanto Si fa tanto lavoro Per migliorare Queste Situazioni Quindi Denunceremo Chiunque Lascia Il cane In abbandono E Purtroppo I cani Che invece Saranno Trovati Custoditi Noi saremo Costretti Nostro malgrado E con grande Dispiacere A portarli In queste Strutture Dove forse Qualche volta Potremmo Di essere portati Più noi Umani Che loro Come Cani Allora Presidente La mia domanda Cioè io Accolgo Con Molto Con piacere Questo Intenzione Di risolvere Proprio Del randagismo Insomma Già la microcippatura Che prevede un obbligo Di scrizione Alla lagrafe canina Da parte dei cittadini Quindi non è che uno Può scegliere Di farlo o non farlo Se uno deve avere un cane È obbligato A scriverlo Alla lagrafe canina Ma Il problema Nasce Perché spesso I cittadini Quando si trovano Di fronte al bisogno Di segnalare La presenza di un randaggio Viene spesso Messa in mezzo Tra le competenze Del comune E le competenze Dell'ASL Cioè spesso Capita che Si chiama il comune E dice di chiamare I veterinari dell'ASL Chiamano i veterinari dell'ASL E dicono Di chiamare il comune Cioè noi dobbiamo cercare Di mettere chiarezza In merito A tutto ciò Cioè innanzitutto I veterinari dell'ASL Non fanno il servizio Da cala a piaggia Cioè Va portato Il cane Dai veterinari Già in una sorta Di sicurezza E poi L'ASL Provvederà Alle procedure Di tipo sanitario In merito Alla prevenzione Alla quarantena All'osservazione Eccetera eccetera Quindi è importante Perché spesso I cittadini Sono un po' confusi Rispetto a chi Dobbiamo chiamare E chi non dobbiamo chiamare Quindi è importante In questo momento Dire ai cittadini Al di là di Cioè questo Pur parli Insomma Giusto per chiarire Questa cosa O magari creare Un recapito Telefonico Un ufficio Di segnalazione In modo che i cittadini Sanno Qual è il leader Procedurale Affinché il cane Venga Accalappiato Anche con L'ausilio eventuale Di bigi urbani Che accompagnano Chi Ha la competenza Del canappiaggio E poi tutto il leader A seguire Altrimenti Si continua A creare Confusione E al di là Della campagna Di sensibilizzazione Che è Estranamente Importante La vigilanza Le va a conti più Perché Ahimè Spesso la sensibilizzazione Non entra nel cuore Nel cerchio Di tutti i cittadini Mentre spesso Le sanzioni E la vigilanza Sono quelli Che purtroppo All'inizio Soltiscono Più affetto Giusto per completare E chiudere Questo Punto Innanzitutto Ci sono diversi Cittadini Che già Segnano E collaborano Con l'ente Non dobbiamo Dimenticare Anche i tanti Volontari Delle varie Associazioni Che fanno Un lavoro Straordinario Nel nostro Comune Anche nel Silenzio Più totale E a volte Nell'ombra Come giusto Che sia Però Vengo a puntualizzare Che questa Convenzione Chiude L'intero Interprocedurale Una volta Che avviene La segnalazione Per l'accalappiamento Del cane Praticamente Viene Spesso Da questa Convenzione È previsto Che il cane Venga Catturato O poi portato Eventualmente A fare Tutte le visite Mediche La microcippatura E tutto Tutto quanto Quello che è L'iter Che serve A mettere In sicurezza L'animale Quindi Da questo punto Di vista Con questa Convenzione Siamo Diciamo Abbastanza tranquilli È ovvio Che ci vuole Collaborazione Da parte Dei cittadini Ma noi L'abbiamo Già spiegato Su questo Chiederemo La massima Collaborazione Ma questo È un problema Che sul nostro Territorio Deve avviarsi Definitivamente A conclusione Perché vi sono Delle situazioni Molto Delicate Noi Abbiamo Impiegato Circa 6-7 mesi Per chiudere Quest'iter Anche per Le solide Questioni Di bilancio Quindi trovare La giusta Copertura Perché Questo Costerà All'ente Ecco perché Il nostro Comando Dei vigili Con il quale Parleremo Non appena Partirà La convenzione Dovrà Adattarsi Attivarsi Al più presto Perché Noi non faremo Sconti A coloro Che tratteranno E tengono Gli animali Per strada Scaricandoli E ritenendoli Loro Soltanto Nel momento In cui Conviene Al cittadino Un animale È sempre Del È sempre Della stessa Persona È uno Di famiglia E lo deve diventare Sempre Non soltanto A convenienza Non va abbandonato Per strada Non deve Defecare Per strada Deve avere Tutte le vaccinazioni Deve essere tenuto Negli spazi Consentiti Non deve essere Un pericolo Per l'incolumidità Di altri cittadini Dei bambini Delle macchine Che transitano E quant'altro Quindi a breve Su questa situazione Ci rigideremo Proprio per Consentire Che Anche sotto Questo punto Di vista L'immagine Del nostro Terrinoio Possa Migliorare In effetti Mi sarà Anche Sicilio Mi sono letto Il regolamento Perché Non veniva citato Penso Almeno che Non abbia Trascurato Qualc'articolo Proprio Nella convenzione Del ruolo Del ruolo Dell'accalampiaggio Cioè Sulla vigilanza Problemi Ma c'è scritto Nella convenzione Perché io Non l'ho trovato Perciò Quello volevo Perché se si deve Integrare Con questo Si può No c'è anche una Nota Che è inviato E Ah ma A parte Allora Non era il regolamento Non l'avete Tenuto Perché se Parola per Integrare Il regolamento Con questo Magari Si fa Prima Che si Guarda A provare Oggi In seguita Con una Proposta Di integrazione C'era La Modulità Dezione Sì Quella Io Non ce l'ho Forse Allora Non Sulla Dezione Forse Io l'ho letta Quello Che scriveva Il responsabile Generale Insomma Per Un nuovo Adesso C'era Una Nota Del presidente Dezione Che Si Ci siamo Sentiti Ancini Per Telefono Sì Io Consiglio Se Non c'è Si può Provare Con l'integrazione Di Quest'articolo In modo Di Non dover Sì 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 Io Dico L'integrazione Nel regolamento Questo Sentimento L'articolo Integrazione In modo Che Va bene Sì Allora Questa Nota Che Nel presidente Si integra L'adesione La facciamo Poi segnare Dall'esplosione Va bene Quindi possiamo passare Alla votazione Chi è favorevole Tutti Bene Possiamo dichiarare Quindi tutto il consiglio E Grazie Ringrazio L'articolo Ander Anche No Non Descrito Stavo Grazie Grazie Grazie